buonasera amici genuani questo video sarà molto 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 polemico ora per chi mi segue sa che io difficile che faccia polemica dura contro qualcosa o qualcuno no però oggi mi sono rotto veramente allora ieri ero in live con degli amici e ho discusso parecchio con un tifoso dice vicino alla società viola che sanno già tutto che gudmunson è andato alla fiorentina perché gudmunson sta spingendo per andare alla fiorentina perché per gudmunson questo è un salto di qualità e mi sono un po' infervorato perché che faccia il salto di qualità dal genoa alla fiorentina mi sembra una ridicolagine ad oggi il genoa è al livello della fiorentina come squadra secondo me anche meglio come società è anche meglio quindi solo perché la fiorentina è da un po più di anni in serie a che ha fatto qualche finale di conference il gene invece ahimè era in una con un'altra società e finale conference non ne ha fatte ha fatto la serie b due anni fa ma ha cambiato un attimino registro ecco bene questo non vuol dire che la fiorentina è meglio della società genoa e del genoa ci vuole rispetto per i tifosi del genoa perché quando vengo a leggere che noi tifosi del genoa che veniamo sempre declassati come squadra inferiore a tutti abbiamo tirato su 28 mila abbonati e quando vado a leggere che la fiorentina la grande fiorentina che è finita in finale conference mi fa 10 mila abbonati ebbene a tutti questi tifosi ma non solo della viola di tutti si devono sciacquare la bocca prima di parlare del genoa del genoa e dei genoani allora partiamo intanto con questo e questo è il punto numero uno punto numero due ce l'ho con i giocatori allora la vita è strana la vita è varia va bene ci sono un sacco di persone che hanno mille problemi nella vita e io non sono qua a fare adesso il moralista è però ci sono un sacco di persone che hanno mille problemi hanno un lavoro che li porta a fatica a fine mese magari c'è gente da sola e ripongono nelle proprie squadre nei propri beniamini un po di loro serenità ebbene questa cosa che sta succedendo oggi ancora oggi 6 agosto di gudmunson che sembra che voglia andare a firenze spinge per andare a firenze la fiorentina grande squadra sciacquatevi la bocca grande squadra che fanno a gara per toglierci qualche spicciolo perché così vanno in economia perché le società italiane ormai vanno in economia no ormai funziona così e vengono a elemosinarti loro dicono di essere la grande squadra i grandi tifosi e vengono a elemosinarti una milionata di roba per comprare gudmunson ebbene c'è gente che crede in questi giocatori c'è gente che ci mette la loro serenità e se il signor albert gudmunson e lo dico anche per tutti i tifosi genuani e vi sto difendendo a sto giro che sono sempre molto critico sui tifosi genuani ma sto giro vi sto difendendo il signor albert gudmunson se vuole andare via che spinge per andare a firenze allora bisogna che ci dà una botta porta via le palle e andiamo avanti perché i tifosi genuani meritano rispetto la società genua merita rispetto per quei 28 mila teste di cazzo che hanno fatto l'abbonamento per giocatori come te lo so che tanto gudmunson non guarda certo me perché io sono nessuno e quindi va bene così ma questo video devono guardare i tifosi genuani basta piangere per questi giocatori che fanno quello che vogliono e ancora siamo ancora lì a dire no per favore albert va non andare rimani albert deve prendere la sua bella valigia portare via le balle se ne va nella sua amata firenze se così è vero perché io adesso sto dicendo delle cose perché leggo da testate giornalistiche importanti no mi viene detto da chi faccio live che gudmunson spinge per andare via perché va a fare il salto di qualità a firenze il salto di qualità io penso che un giocatore il salto di qualità lo fa se va a real madrid non alla fiorentina quindi se supponiamo albert voglia andare via che vada ma lo deve fare in fretta perché questa situazione è stucchevole ha rotto i coglioni alla gente normale che vuole godersi la propria squadra ok io sono qui che dico cari amici genuani ma di gudmunson ve ne dovete sbattere le palle ci sono giocatori più importanti di gudmunson ve ne faccio uno di nome vogliacco vogliacco lui ha un vero genuano e cubano è un vero genuano che si è ridotto l'ingaggio pur di rimanere qui e aveva delle altre proposte se albert vuole andare via date retta a me fate sperate che vada via subito perché intanto se poi rimane e non ha voglia di rimanere potete immaginare che campionato di merda che ci viene a fare soprattutto considerando che poi abbiamo due campioni come reteghi e vitigna che devono sottostare a l'albert dipendente quindi raga svegliatevi apriamo gli occhi se vuole andare via non dobbiamo aver paura di perderlo abbiamo perso dei giocatori molto più forti di gudmunson io ve ne dico alcuni io mi ricordo claudio branco mi ricordo scuravi ma andiamo a milito andiamo a otta abbiamo avuto dei campioni rispetto a gudmunson e non è gudmunson che ci deve far paura lo capite dobbiamo ci facciamo paura da soli perché abbiamo paura di perdere un beniamino di beniamini ne abbiamo quanti ne vogliamo ripeto abbiamo friend group abbiamo vogliacco abbiamo vitigna avete visto la voglia che ci mette vitigna per giocare questi sono i giocatori da genoa perché noi 28 mila spettatori lo ripeto 28 mila abbonati che siamo la terza la quarta società in italia come abbonati non dobbiamo essere dei provinciali perché stiamo dimostrando di essere dei provinciali con questi giocatori dobbiamo dirgli ci hai fatto divertire se rimani però devi rimanere perché devi onorare il genoa non perché devi rimanere perché quei quattro scappati di casa della fiorentina non hanno neanche due spiccioli da tirare fuori devi rimanere per onorare la maglia se no prendi e te ne vai a firenze che vai a stare meglio sicuramente ma stiamo meglio anche noi quindi questo è un video molto polemico perché dobbiamo smettere noi genuali per prima di dipendere da sticco da questi giocatori lo ripeto per la 170 milionesima volta se se ne vuole andare chiunque qualsiasi giocatore deve andarsene via perché noi dobbiamo avere giocatori che hanno voglia di onorare la maglia voglia di onorare i 28 mila abbonati che diventano 30 33 mila tutte le domeniche e quello stadio che ribolle ogni domenica quindi ragazzi svegliamoci svegliamoci perché noi dobbiamo far capire che il genoa fa al culo alla fiorentina fa al culo al monza fa al culo a chi cavolo al torino a tutte queste squadre noi siamo superiori lo capiamo che siamo superiori non ci dobbiamo ogni volta ridurre a dover stare a discutere e con la sandoria con la fiorentina col torino ma ragazzi basta i giocatori passano il genoa resta quindi albert non mi guarderai se rimani da noi io sono il primo a essere contento che tu rimanga da noi perché sei stato e sei un bel campione ma se la tua intenzione è che tu vuoi fare il salto di qualità a firenze vai a firenze ma ti togli dalle palle ora che siamo al 6 agosto perché la società deve lavorare per trovare un sostituto degno che abbia voglia di investire il proprio talento sulla nostra squadra che è quella che conta sui 28 mila abbonati che ti applaudono ogni domenica raga con questo credo di essere stato abbastanza pacato vi saluto porca troia e forza genoa